Ciao a tutti, voglio segnalarvi un evento molto importante che è stato organizzato da Risto Golf, che è un'associazione di ristoratori golfisti cappeggiata da Chico Cerea, una assoluta eccellenza italiana nel campo della ristorazione, che si svolgerà ad Albenza il 21, il 22 e il 23 di luglio. Io ringrazio tantissimo Chico Cerea perché tutto il ricavato di questo evento sarà devoluto al CESVI e quindi in quei giorni si mangerà benissimo, si giocherà golf in uno dei campi più belli, che è quello di Albenza e soprattutto si aiuterà moltissimo CESVI. Non sto neanche a dirvi quanti progetti importanti sono stati realizzati in questo periodo per la città da parte di CESVI e quindi è importante partecipare non soltanto perché saranno tre giorni bellissimi, ma perché potremo aiutare ancora di più CESVI a proseguire nei progetti che ha creato nel periodo più difficile per la città e che continuano e vanno avanti e sono soprattutto diretti verso le fasce più deboli come quelle degli anziani. E quindi ricordatevelo, il 21, il 22 e il 23 di luglio ad Albenza più saremo e più fondi raccoglieremo per CESVI. Grazie.